giorno 15 e purtroppo anche l'ultimo a cipro come vedete la vegetazione è diversa perché sto facendo questo video ormai da casa dato che abbiamo lavorato di notte e la mattina avevo il volo per tornare nella bellissima provincia di milano tornando a noi anche stanotte abbiamo sentito un richiamo l'abbiamo seguito e siamo arrivati in questo posto con due bellissime reti con immensa gioia al nostro arrivo abbiamo beccato anche il bracconiere che ovviamente è riuscito a scappare conoscendo bene la zona noi non avevamo idea di dove fossimo ed era completamente buio quindi purtroppo è scappato però abbiamo recuperato un po di uccellini purtroppo sono riuscita a fare solamente il video di questa capinera avevamo abbastanza fretta e ci servivano tutte le mani per svantellare le reti e liberare gli uccellini comunque saranno stati all'incirca 6-7 quasi tutte capinere ovviamente poi liberati tutti e abbiamo portato via anche pali richiami e reti purtroppo questa è stata la mia ultima notte a cipro sono molto contenta di aver fatto questa esperienza è stata bellissima e ho conosciuto persone davvero fantastiche spero di riuscirci a tornare anche l'anno prossimo